Cristiana Grazie a tutti Grazie signore, alleluia Amen, amen Accomodatevi Gloria a Dio Ringrazio il Signore per Questa bella opportunità che ho di stare insieme a voi questa mattina, in questo giorno Ringrazio prima di tutto il Signore per la parola che ha voluto darci, credo che siamo stati benedetti, vero? Grazie fratello Luca, Dio ti benedica e siamo incoraggiati anche dalla testimonianza di come il Signore continua ad operare Desidero ringraziare i fratelli del Comitato di Zona per l'onore che mi danno, grazie, non vi ringrazio per l'onere, per l'onore sì, ma per la fatica no, per la responsabilità no Comunque grazie, è bello stare insieme, rivederci, ringrazio il fratello Francesco Caldaralo per l'ospitalità e tutti voi che siete qui convenuti, siamo felici di appartenere al Signore, vero? Anche io mi sono sposato in Puglia, quindi il pranzo è stato abbondante e abbiamo già ricevuto abbondantemente, non era un aperitivo, non era un antipasto, abbiamo ricevuto e continuiamo a pregare che il Signore ci parli ancora Per quanto riguarda la proiezione delle slide, seguirete lo studio per fede, voi siete uomini e donne di fede, quindi esercitate la vostra fede per vedere se c'è qualcosa qui sullo schermo Perché, diciamo, lo schermo è verticale e deve essere orizzontale, quindi perderete il testo sia a destra che a sinistra Poi, non guardiamo né a destra né a sinistra, poi c'è questa luce così forte, non so se voi riuscite a vedere, ma io faccio fatica anche da qui E oltretutto, diciamo, un terzo lo perdete perché è tagliato, un altro terzo perché non si vede, un altro terzo perché io non saprò esporre lo studio biblico Scherzo, ovviamente, ma vogliamo dedicare del tempo per esaminare questo soggetto Intanto vi do i saluti delle Chiese di Latina e Cisterna Che il Signore ci dà grazie di curare, sicuramente gli impegni sono tanti nell'opera di Dio E per noi è un onore fare parte della Chiesa del Signore Gesù Cristo Ringrazio il Signore anche per l'opportunità, la responsabilità di prendermi cura un po' dell'opera missionaria Poi ne parleremo in questo pomeriggio E vogliate pregare per quanti sono impegnati al fronte per portare il messaggio della parola di Dio in varie nazioni Intanto lo studio biblico che tratteremo è intitolato Creati per la sua gloria Ovviamente per la gloria di Dio Creati per la sua gloria Si vede qualcosa? Si Allora vi leggo il testo in Isaia capitolo 43 Leggiamo i versetti da 1 a 7 Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore o Giacobbe, colui che ti ha formato Israele Non temere perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio Quando dovrai attraversare le acque io sarò con te, quando attraverserai i fiumi essi non ti sommergeranno Quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto Perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita Non temere perché io sono con te, io ricondurrò la tua discendenza da Oriente e ti raccoglierò da Occidente Dirò al settentrione da e al mezzogiorno non trattenere Fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra Tutti quelli cioè che portano il mio nome Che io ho creati per la mia gloria Che ho formati, che ho fatti Gloria al Signore Versetti bellissimi, come d'altronde è bella tutta la parola di Dio Ma ci sono dei passi che ci parlano in maniera più intima, più profonda E qui c'è Dio che si presenta quale creatore, quale redentore Colui che ci considera preziosi E alla conclusione di questo paragrafo Troviamo il versetto 7 che dice Tutti quelli che portano il mio nome Che io ho creati per la mia gloria Creati per la gloria di Dio Creati per la gloria di Dio Ora, se dovessimo chiedere per strada a dieci persone diverse Quale sia a loro parere la cosa più importante del mondo Probabilmente otterremmo una grande varietà di risposte Perché quello che è importante per uno Può non essere importante per l'altro E viceversa Qual è la cosa più importante della tua vita? Qual è la cosa più importante della nostra vita? Alcuni dicono il denaro Altri dicono il lavoro Altri dicono il piacere Altri dicono il divertimento Il lusso La libertà La sicurezza Lo status sociale Quindi il livello economico Ognuno può avere la sua risposta La pace E la pace che è invocata in modo particolare In questi giorni La felicità La gioia Qual è la cosa più importante della mia e della tua vita? Qual è la cosa più importante per i credenti, per i figlioli di Dio? Ora Daremo la risposta Ma potete già intuirla Noi siamo stati creati Per la gloria di Dio Siamo stati creati Per la gloria di Dio Nel 42 dopo Cristo Erode, re della Giudea Uccise l'apostolo Giacomo Poi vedendo che la cosa piaceva ai giudei Fece imprigionare pure Pietro Pietro fu liberato Miracolosamente Un angelo andò in prigione Lo fece uscire Erode si infuriò per questo Si adirò E poi Erode Fece mettere a morte le guardie Che dovevano custodire questo prigioniero Poi si recò nelle città O nella zona di Tiro e Sidone E gli abitanti di quelle città cercarono di avere un'udienza Di parlare con Erode Finalmente ci riuscirono Tramite un certo blasto E La storia biblica Che troviamo in Atti 12 Molto breve Ci dice che Erode fece il suo bel discorso Il suo bel comizio E la gente cominciò a dire Voce di Dio E non di un uomo La conoscete questa storia? Si o no? Mi guardate tutti stralunati Ma la leggete la Bibbia? Si? E in quel momento Quando il popolo osannò Erode Dicendo voce di Dio E non voce di un uomo Il Signore lo colpì Cadde a terra morto Rosso dai vermi Perché non aveva dato Gloria a Dio Vogliamo dare gloria a Dio Date gloria a Dio Prima che siate rosi dai vermi Non tutti vengono rosi dai vermi Anania e Saffira Pure fecero una brutta fine Erode Abbiamo detto Quello che gli accadde Non sempre Però sicuramente Sicuramente Quelli che non danno gloria a Dio Che non riconoscono Di essere stati creati Per la gloria di Dio Presto o tardi faranno una brutta fine E c'è una fine Ancor peggiore Della morte fisica E la morte spirituale E la morte eterna L'eterna separazione da Dio Perciò noi vogliamo dare gloria al Signore La prima cosa che voglio sottolineare L'essenza della gloria di Dio Non so Se riusciamo a comprendere È stato ridimensionato il Il quadro Quindi si riesce a vedere quasi tutto L'essenza della gloria di Dio Che cos'è questa gloria di Dio Prima di tutto Voglio dirvi che C'è una gloria propria di Dio Vale a dire Una gloria intrinseca E questa gloria intrinseca Fa parte della sua natura È quello che Dio è in realtà È Egli stesso La sua bellezza La sua eccellenza Le sue perfezioni La sua magnificenza La sua purezza La sua potenza La sua sapienza La sua misericordia La sua giustizia E potremmo continuare Questa è la gloria di Dio Quello che Dio è Ed è l'armonia perfetta Di tutti i suoi attributi Di tutte le sue qualità Di tutte le sue perfezioni E certamente Questa gloria è sua E sua soltanto Ma l'essenza di questa gloria Può essere espressa anche Dalla gloria riflessa Quello che Dio è Ma anche quello che noi riconosciamo E' una gloria riflessa Nella nostra vita E dalla nostra vita Per fare un esempio Che forse è noto a tutti voi E' la luce della luna La luce della luna Non è luce propria Non è luce della luna Ma è la luce riflessa Vero? Qui magari ci sono Tanti studenti O studiosi Ricercatori Fisici Astronomi Non credo Astrologi Però E E sanno bene Cosa significhi La luce del sole Che Illumina la luna E la luna E noi diciamo Che bella luna Che bel chiarore di luna Com'è bella Ma non è luce propria Ora Questo è solo per fare un esempio Di quella che è La gloria di Dio Che deve essere Riflessa Nella nostra vita E tramite la nostra vita Siamo stati creati Per la sua gloria Cioè abbiamo il diritto Dovere di risplendere E di risplendere Per questa gloria Che egli ha fatto Risplendere nella nostra vita Ora La gloria intrinseca di Dio Fa parte del suo essere E' una gloria Che Non può essere Trasmessa E noi Non possiamo Pensare Di Attribuire Maggior gloria A Dio Quando diciamo Che siamo stati creati Per la sua gloria Non dobbiamo Pensare Che Nel momento In cui Gli Tributiamo La gloria Gli attribuiamo La gloria Lo rendiamo Più luminoso Più grande Più intelligente Più alto Più bello Perché Sappiamo Che niente Nessuno Può aggiungere Qualcosa Alla grandezza E alla bellezza Di Dio Dio è quello Che è Punto e basta A volte Viene Usata Questa espressione Ci riferiamo Ancora Alla luna Abbaiare Alla luna L'avete mai sentita Questa espressione No Si dice Che a volte I cani Quando Soprattutto Quando la luna Splende Quando c'è La luna Piena I cani Si mettono Ad abbaiare Contro la luna Ma il loro Abbaiare E questo è il senso Di questa frase Di questo motto Il loro Abbaiare Non fa Diminuire Lo splendore Della luna Anche se abbiamo Detto che non è Uno splendore Proprio Una luce Propria Ma L'abbaiare Di questo Cane Non Abbasserà La luminosità Allora Quello che voglio Dirvi È che Tutti coloro Che criticano Dio Si accaniscono Contro Dio Si ribellano Contro Dio Non gli possono Sottrarre Minimamente Un briciolo Della sua gloria Dio È Dio E rimane Dio E Detto in parole Un po' crude Perdonatemi Dio non ha bisogno Né di me Né di te Il fatto che io Mi converta Il fatto che io Lo serva Il fatto che io Lo lodi Non gli aggiunge Nulla Non lo rende Ancora più grande E più bello E il fatto che tanti Si scaglino Contro Dio Non lo Impoverisce Della sua gloria Pertanto Dobbiamo capire Che essere Creati Per la sua gloria Non è per il suo Vantaggio Ma per il nostro Non è un favore Che facciamo a lui Ma Ma un favore Che facciamo A noi stessi Stefano Mentre stava facendo Il suo discorso Ai giudei Che di lì a poco Lo avrebbero lapidato Riferendosi a Dio Disse Il Dio Della gloria E la gloria E la gloria di Dio Deve essere Riconosciuta Questo implica Il fatto che Noi lo Onoriamo Il fatto che Lo trattiamo Con riverenza Il fatto che Edifichiamo Noi stessi Edifichiamo Gli altri Tramite La gloria di Dio Quando noi Riconosciamo La gloria di Dio Stiamo Benedicendo Noi stessi Permettetemi L'espressione Ma stiamo Edificando Anche gli altri E stiamo Rendendo Una testimonianza Al mondo Noi Siamo Quelli Che danno Gloria a Dio Qual è Lo scopo Primario Della Nostra vita Siamo Stati Creati A immagine Di Dio Per dargli La gloria Non so Se Avete Presente Il motto Che contraddistinse I riformatori Tra I vari Motti C'era Questo Soli Deo Gloria Soli Deo Gloria Tradotto In italiano È Addio Soltanto La gloria Nel Catechismo Di Westminster Il primo Articolo Di questo Catechismo Breve Dice Lo scopo Principale Dell'uomo È glorificare Dio E gioire In Lui Per sempre Lo scopo Principale Dell'uomo È glorificare Dio E gioire In Lui Per sempre Avete Avete Sentito Questa Dichiarazione Da quelle Dieci persone Che abbiamo Intervistato Per strada Qual è la cosa Più importante Del mondo Fare i soldi Il lavoro La pensione La casa bella I mobili Il piacere Il lusso Il divertimento Lo svago Avete fatto Queste domande Alla gente Ma chi di loro Ha detto Lo scopo Primario Della mia vita È dare Gloria A Dio E gioire In Lui Per sempre Loro Non lo possono Dire Ma noi Lo possiamo Dire Perché noi Abbiamo conosciuto Il Signore E non solo Lo vogliamo Dire Ma vogliamo Vivere La nostra vita Ogni giorno Perché siamo Stati creati Per la Sua Gloria Può esserci Una Gloria Che è soltanto Apparente Aprire la Bocca E dargli Fiato E Gesù Un giorno Disse Questo popolo Mi onora Con le labbra Ma il cuor loro È lontano Da me Dov'è il nostro Cuore Questa mattina Non basta Aprire la Bocca E dare Gloria A Dio Mi ricordo Molti Molti Anni Fa Un fratello Non vi dico Dove Che Sbadigliava Sempre Durante Il culto E per Non sprecare Il fiato Mentre Sbadigliava Diceva Gloria A Dio Ma il Signore Non apprezza Un tipo Di Lode Di questo Genere Il Signore Desidera Che Apriamo La bocca Ma anche Il nostro Cuore E la sua Presenza E niente Rinforza La nostra Fede Come Riconoscere Che l'obiettivo Finale Di Dio Per la sua Creazione È che Diamo Gloria A Lui Coloro Che io Ho creati Per la mia Gloria Dice il Signore Dio Dio Ci ha Creati Per la sua Gloria E nulla Dicevo Ispira La nostra Fede Il nostro Coraggio Come Questo Concetto Così Importante Terza Cosa La gloria Di Dio È la Bellezza E l'eccellenza Delle sue Molteplici Perfezioni L'uomo È stato Creato Per affidarsi A Dio Purtroppo Molto spesso Ci fidiamo Più di noi Stessi E degli altri Quarto Tutto L'universo È impegnato A dare Gloria Al Signore Amen Cosa Dice Il Salmo Diciannove Versetto Uno I più coraggiosi Salmo Diciannove Versetto Uno I cieli Raccontano La gloria Di Dio E Il firmamento Annuncia L'opera Delle sue Mani I cieli Annunciano La gloria Di Dio Cosa Dice Luca Due Tredici E quattordici Vi voglio Aiutare L'annuncio Degli Angeli Che nella Città Di Davide Era Successo Qualcosa Di eccezionale Cosa Dice Vabbè Aspetto Che lo Trovate Così Eh Gloria Dio Nell'alto Dei Cieli Prima Corinzi E pace In terra Gli uomini A cui Benevolenza È stata Fatta Prima Corinzi 10 31 Sia Dunque Che mangiate Sia Che beviate Sia Che facciate Qualche altra Cosa Fate Tutto Fate Tutto Come Come mi piace Fare Tutto alla gloria Di Dio Quando mangio E quando bevo Allora Vedete Il creato I cieli Danno Danno gloria A Dio Gli angeli Esseri Soprannaturale Potremmo dire Soprannaturali Non Esseri umani Danno gloria A Dio Gli uomini Danno gloria A Dio Ma gli uomini Chi Gli uomini Creati Da Dio E redenti Da Dio Infatti Questa specialità Così la chiamo È una specialità Dei credenti Creati E redenti Non Una specialità Degli increduli Perché I peccatori Non possono Non riescono Non vogliono Dare gloria A Dio Perché Tutti hanno Peccato E sono privi Della gloria Di Dio Ma poi Dice ancora In Romani Capitolo 1 Versetto 21 Perché pur Avendo conosciuto Dio Perché pur Avendo conosciuto Dio Non l'hanno Glorificato Come Dio Nell'hanno Ringraziato Ma si sono dati A vani ragionamenti E il loro cuore Privo di intelligenza Si è Ottenebrato Il peccato Il peccato Per natura Offende Dio E i peccatori Per la loro stessa Natura E condizione Disonorano Dio Ma Vorrei Entrare Più nel Dettaglio Pratico Terzo punto Dello studio Biblico Come Come agire In modo Che Dio Ottenga La gloria Cosa fare Praticamente Per dare gloria A Dio Perché Questo a volte È un argomento Un po' Nebuloso Un po' Astratto Un po' Teorico Bisogna dare gloria A Dio Sì Ma Che significa Significa che nel culto Devo stare sempre Attento a lodare il Signore A glorificare Dio E quello è sufficiente Ora le risposte che vi darò Ve le darò Alla luce Della parola Di Dio Perché il Signore stesso Ci dice Qual è il modo migliore Per dargli gloria Quindi Ascoltiamo quello che Il Signore ci vuole dire Attraverso la sua parola Prima di tutto Noi diamo gloria a Dio Con la nostra condotta Siete d'accordo Con la nostra condotta I credenti Rabbuiati I credenti Tristi I credenti Malinconici I credenti Che vanno in chiesa Come se andassero A una seduta Dal dentista I credenti Che vanno In chiesa Come se andassero All'agenzia Delle entrate I credenti Che hanno sempre Il muso lungo E a cui tutto Gli va sempre Storto E sono sempre Pessimisti Disfattisti Critici E polemici Non Danno Glorie a Dio Un solo applauso Ma applausi No Il migliore applauso Gloria a Dio Non vorrei cadere Rosso dai vermi Ah non era per me Gesù dice Così risplenda La vostra luce Davanti agli uomini Si parla di luce Non di tenebre Affinché Vedano Le vostre Buone opere E glorifichino Il padre vostro Che è nei cieli Quando la luce Splende Attraverso La nostra vita Ci saranno Altri Che daranno Gloria A Dio Perciò Vogliamo dire Signore aiutaci Quindi non dovrebbe Essere Semplicemente Un atto Di adorazione Domenicale Piuttosto È uno stile Di vita È uno stile Di vita Non è partecipare Alle Virgolette Funzioni Religiose Non è Essere Dei bravi Credenti Sempre lì Pronti A fare La propria Parte Dobbiamo Offrire Gloria Al Signore Perché Dobbiamo Vivere In maniera Tale Che Egli Possa Ottenere Gloria Attraverso Il nostro Comportamento La nostra Condotta Dobbiamo Vivere In maniera Tale Che Pratichiamo Le buone Opere Qui C'è Scritto Vedano Le vostre Buone Opere Che non Sono opere Di beneficenza Opere Sociali Per carità Anche quelle Ovviamente Ma È uno Stato Una condizione Di chi È nato Di nuovo Di cui Parlava il fratello Sessa Prima Quelli che sono In Cristo Che vivono Una nuova vita In lui Quindi Atti Di Amore Di Generosità Di Bontà Che sono Espressione Della nostra Nuova Natura L'Apostolo Paolo Scrivendo A Tito Dice Che Cristo Ha dato Se stesso Per noi Per Riscattarci Da ogni Iniquità E Tenete presente Che questa Parola Richiama Quanto abbiamo letto Nel testo Biblico Di Isaia Colui Che ci ha creati Ci ha riscattati Cristo Ci ha riscattati Per purificarsi Un popolo Che gli appartenga Zelante Nelle opere Buone E non solo Riscattati In Efesini Due Dieci Ci richiama Un altro verbo Che abbiamo letto In Isaia Vi ho Creati Infatti Siamo Opera Sua Essendo Stati Creati In Cristo Gesù Per fare Le opere Buone Che Dio Ha precedentemente Preparate Affinché Le pratichiamo E Un'ultima Osservazione Che vorrei Fare A proposito E che Ci sono Tanti Filantropi Ci sono Tanti Benefattori Che impegnano L'intera L'intera Loro Vita Per aiutare Gli altri Che Assistono Anche dal Punto Di vista Sociale Umanitario Ma non per Questo Sono nati Di nuovo Non per Questo Credono In Dio Non per Questo Stanno dando Gloria a Dio Quando Invece Ogni atto Di Bontà Di Generosità Di Misericordia È fatto In virtù Dell'opera Che Cristo Ha compiuto In noi Perché Ci ha Riscattati Perché Ci ha Redenti Perché Siamo Stati Creati Per le Buone Opere Che Egli Ha Già Preparato Dinanzi A Noi Allora Stiamo Facendo Qualcosa Che Va Alla Gloria Di Dio Spero Di Essere Stato Chiaro Secondo Modo Attenzione Sono Sette Quindi Quando Arriverò A Sette Saprete Che Stiamo Concludendo Però Mi è stato Detto Che Abbiamo Due Ore Di Tempo Per Lo Studio Biblico Non lo So Se è Vero No Diamo Gloria A Dio Con Ci fidiamo Di Dio Abramo Fu Fortificato Nella Sua Fede E Diede Gloria A Dio Quanti Anni Passarono Tra La Prima Promessa Che Avrebbe Avuto Un Figlio Che Avrebbe Avuto Una Discendenza Numerosa Come Le Stelle Del Cielo E La Sabbia Sul Lido Del Mare Quanto Tempo Passò Da Quella Prima Promessa Alla Sua Realizzazione C'è qualcuno Che può dare Una risposta Sicuramente I miei Fratelli Conservi Lo sanno Ma Loro Li lasciamo Da parte Questa è Un'altra Generazione Quanto Quanto Tempo Passò Dalla Prima Promessa Del Signore A Quando Poi Finalmente Nacque Isacco Un Anno Due Anni Venti Secondo Alcuni Venticinque Anni E In Questi Venticinque Anni Dio Più Di Una Volta Ribadì La Promessa E Abramo Era un Po Così Confuso Sì Fuori Della Tenda Guardò Le Stelle Ma Cosa Mi Darai Signore Perché Il Tempo Passava E Nulla Accadeva Ma Davvero Dio Realizzerà Questa Promessa Ma Davvero Dio Risponderà E Poi Una Volta Una Seconda Volta Quanti Di Noi Si Sarebbero Scoraggiati Dopo Una Settimana O Dopo Un Giorno Dopo Cinque Minuti Ma Abramo Fu Fortificato Nella Sua Fede E Diede Gloria A Dio Il Signore È Fedele Il Signore Non Mente Il Signore Manterrà La Sua Promessa Sì Abramo Ma Non È Successo Niente Non Sta Succedendo Nulla Io So Che Il Signore A Tempo Debito Farà La Sua Parte Fu Fortificato Nella Sua Fede E Così Diede Gloria A Dio I Credenti Che Giungono Subito Alla Conclusione Che Dio Non Ascolti Che Dio Non Si Fa Sentire Come Abbiamo Anche Ascoltato Questa Mattina Sono Credenti Che Non Danno Gloria Al Signore Perché Il Signore Desidera Che In Noi Ci Sia La Fede Chi È Senza Fede Non Può Piacere A Dio E Se Vogliamo Piacergli Dobbiamo Continuare A Sperare Continuare Ad Avere Fede Ma Davanti Ai Problemi Spesso Ci Preoccupiamo C'è Una Reazione Umana Logica Naturale Ma Questo Non Ci Deve Impedire Di Continuare A Dare Gloria A Dio Alcuni A volte Vengono Avvicinati Dai Non Credenti E Dicono Ma Che Hai Che Ti Succede Ti Vedo Così Scoraggiato Così Demoralizzato Io Non Credo In Dio Ma Mi Sembra Che Pure Tu Non Ci Credi Io Spero Che Non Lo Dicano Mai Di Noi Ma Che Possano Vedere Nelle Nostre Prove Nelle Nostre Difficoltà Questa Gloriosa Fiducia Nel Signore Il Mio Dio Provvederà A ogni Vostro Bisogno Secondo La Sua Gloriosa Ricchezza In Cristo Gesù A Dio E Padre Nostro Sia La Gloria Nei Secoli Dei Secoli Amen C'è La Fiducia Dio Provvederà E A Lui Sia La Gloria Diamo Gloria A Dio Con Il Frutto Con Il Frutto Spirituale Nella Nostra Vita Un Credente Improduttivo Non È Per La Gloria Ma Per Il Disonore Di Colui Che Lo Ha Chiamato Gesù Disse Capitolo 15 Di Giovanni In Questo È Glorificato Il Padre Mio Che Portiate Molto Frutto Così Sarete Miei Discepoli In Che Cosa Noi Possiamo Rendere Gloria Dio Forse Perché Abbiamo Acquisito Delle Posizioni Nell'ambito Dell'opera Del Signore Forse Perché Abbiamo Il Rispetto E La Stima Degli Altri Gesù Dice Chiaramente Che Il Signore È Glorificato Tramite Questo Frutto Che Portiamo Per La Sua Gloria E Il Nostro Frutto Secondo Quel Testo Deve Essere Abbondante E Permanente Proprio Nei giorni Scorsi Vedevamo Con Gli Studenti Della Scuola Biblica Quelli Che Saranno Esaminati Davanti Al Tribunale Di Cristo E Che Porteranno La Loro Opera E L'opera Di Alcuni Sarà Paglia Fieno Legna L'opera Di Altri Sarà Oro Argento E Pietre Preziose E L'opera Di Ciascuno Sarà Provata Con Il Fuoco E Sicuramente Quando Verrà Acceso Questo Fuoco Quella Legna Quella Paglia Bruceranno In Un Momento Ma Chi Avrà Portato Ai Piedi Di Gesù Delle Pietre Preziose Dell'oro Dell'argento Il Frutto Rimane Rimane Il Risultato Di Un Servizio Fedele E Noi Certamente Non Vogliamo Essere Come Quei Tizoni Scampati Dal Fuoco Ma Vogliamo Portare Frutto Alla Gloria Di Dio In Questo È glorificato Il Padre Mio Che Portiate Molto Frutto Signore Aiutaci A Darti Gloria In Questo Modo Non Con Le Parole Non Con Le Labbra Gesù Dice Al Capitolo 7 Di Matteo Non Chi Dice Signore Signore Entrerà Nel Regno Dei Cieli Ma Chi Fa La Volontà Del Padre Mio Che È Nei Cieli Signore Vogliamo Fare La Tua Volontà Siete D' Accordo Quarto Modo Per dare Gloria Dio Con La Lode E L' Adorazione Dice Il Salmo 50 Chi Mi Offre Come Sacrificio Il Ringraziamento Mi Glorifica Che Dite È Importante Lodare Dio È Importante Dare Gloria Dio Anche Verbalmente Sicuro Noi Sappiamo Che È Quello Che Il Signore Si Aspetta Dai Redenti Noi Stiamo Facendo Le Prove Generali Qui Sulla Terra Cantiamo Lodiamo Il Signore Ma Sono Le Prove In Attesa Di Quel Coro Stupendo Meraviglioso Quando Saremo In Quella Folla Immensa E Canteremo L'inno Dell'Agnello Gloria Dio La Lode È In Tutta La Bibbia In Tutta La Parola Di Dio E Nell'Apocalisse La Troviamo Anche Nel Cielo Non È Solo Lode Sulla Terra Ma Anche Lode In Cielo E Noi Offriamo L'adorazione La Lode Per La Gloria Di Dio L'edificazione Del Popolo Di Dio E Per Rendere Testimonianza Al Mondo La Lode È Adorazione La Lode È Celebrazione La Lode È Giubilo La Lode È Allegrezza La Lode È Canto Perché No Ma In Alcuni Ambienti Evangelici Molto Spesso Si parla Di Adorazione Riferendosi Soltanto Alla Musica Al Canto Io Penso Che Adorare Il Signore Sia Qualcosa Di Più Comprende Anche Il Canto E La Musica Ma È Qualcosa Di Molto Più Profondo Dio È Spirito E I Veri Adoratori Adorano Il Padre In Spirito E Verità E A Questo Proposito Vi Voglio Dire Che Nella Nostra Lode Nella Nostra Adorazione Dobbiamo Sempre Mirare Alla Centralità Di Dio Qualche Tempo Fa Dicevo Non Ricordo In quale Occasione Comunque In una Riunione Che In Molte Chiese O In Alcune Chiese Ho Notato Che Il Pulpito Sta In Un Angolo E Tutto Il Palco È Preso Dai Musicisti E Dei Cantanti Per Carità Non Ce L'ho Con Voi Ma Credo Che Ci Sia Un Certo Messaggio Poi In Altre Chiese Addirittura Il Pulpito È Stato Tolto Tolto Di Mezzo E C'è Solo La Scenografia Del Canto Della Musica Le Luci Il Fumo E Così Via Ora Io Credo Che Ci Sia Un Significato Forse Non è Un Significato Esplicito Ma È Implicito Però Noi Dobbiamo Stare Attenti Perché Non Parlo Di Un Oggetto Di Legno Per Carità Potrebbe Anche Non Esserci Potrebbe Anche Non Esserci Questo C'è Soltanto Per Coprire Le Gambe Di Chi Predica Perché Quando Tremano Insomma Non Si Vedono Non Mi Fra Intendete Non È Un Oggetto Liturgico Non È Un Elemento Sacro Nell'arredamento Della Chiesa Ma Noi Dobbiamo Esaminare Qual È Il Ruolo Che Abbiamo Attribuito E Che Attribuiamo Alla Predicazione Della Parola All'insegnamento Della Parola Di Dio Qual È Il Ruolo Che Noi Attribuiamo A Dio Nel Nel Nostro Culto Spirituale Gesù dice Quando due o tre Sono riuniti Nel mio nome Qui sono io In mezzo A loro Non Da un lato In mezzo A loro E in mezzo Non è certamente Un luogo fisico Non è dire La centralità Del pulpito Ma in mezzo Significa Che In mezzo A noi Tra me E voi C'è il Signore Tra la destra E la sinistra C'è il Signore Quando ti giri A guardare Il fratello E la sorella Che sta dietro Se guardi bene C'è il Signore Perché il Signore Riempie Questa sala Con la sua presenza E la sua gloria Allora Quello che Desidero dirvi È che Il Signore Non accetterà mai Un ruolo Di gregario Di Figura Dio Non accetterà mai Di essere Strumentalizzato Nelle nostre Riunioni Perché Dio Vuole essere Il protagonista Dio Vuole essere La figura Centrale Dio Vuole essere L'oggetto Della nostra Lode Della nostra Adorazione Non possiamo Dare Importanza Al predicatore E al Grande Evangelista E dimentichiamo Che il Signore È il Signore Dell'opera Non possiamo Attribuire Un'estrema Importanza A quella Che è la Cornice Dimenticando L'importanza Del quadro Altrimenti Noi Ci accontenteremo Di sostituti Pietosi Di filosofie Incentrate Sull'uomo Che esaltano L'uomo E che danno Gloria All'uomo Con il rischio Di essere Rosi Dai Vermi Mentre Noi Vogliamo Esaltare Dio Vogliamo Esaltare Lui Vogliamo Dargli Il ruolo Centrale Il ruolo Che gli Appartiene Vogliamo Dare Gloria A Lui E a Lui Soltanto Io sono Il Signore Questo È il mio Nome Potremmo Dire Io sono L'Eterno Io sono Yahweh Questo È il mio Nome Io Non darò La mia Gloria A un Altro Nella Lode Che mi Spetta Agli Idoli Gli Idoli Ci sono Assumono Altri Nomi Ma Ci sono Gli Idoli E Dio Dice Non darò La mia Gloria Agli Idoli Non darò La mia Gloria Ad un Altro Gloria Al Signore Diamo Gloria a Dio Con la gioia Nella persecuzione Di fronte All'opposizione Al ridicolo All'arroganza Dimostriamo Quanto Amiamo Dio E quanto Gli siamo Consacrati Tutti Tutti Sono Capaci Di Alzare Le Mani E Di Dare Gloria Dio Nella Benedizione Tutti Sono Contenti Sul Monte Della Trasfigurazione Ma Noi Possiamo Dare Gloria Dio In Modo Particolare Quando Attraversiamo Prove E sofferenze Abbiamo Abbiamo ascoltato Poco fa Che c'è stata una coppia cristiana Che ha dato gloria a Dio Quando Dio Ha risposto E ha liberato Ma ha continuato a dare gloria a Dio Quando il Signore ha deciso Altrimenti Quando Dio dà e quando Dio toglie Gloria al Signore Se uno soffre come cristiano Non se ne vergogni Anzi Glorifichi Dio Portando questo nome Gli apostoli dimostrarono sempre Di essere contenti Di poter soffrire Per la causa Del Signore Gesù Cristo Pietro e Giovanni Se ne andarono Rallegrandosi Che erano stati ritenuti degni Di soffrire Di sopportare Le angherie Per il nome di Gesù Cristo Quando noi Soffriamo Come cristiani Come dice Pietro Non ci vergogniamo Anzi Vogliamo dare gloria A Dio Amen Perché il Signore Si glorifica Anche nelle nostre difficoltà Numero 6 Numero 6 Stato fatto cenno Anche a questo Possiamo dare gloria a Dio Con il nostro corpo Nostro corpo È il Tempio Dello Spirito Santo Il corpo è un dono di Dio È il Tempio Dello Spirito Santo Il corpo non ci appartiene Così dice qui Quindi non appartenete a voi stessi Perché siete stati comprati a caro prezzo Glorificate dunque Dio nel vostro corpo Siccome il nostro corpo precedentemente è stato usato per le nostre passioni Per le nostre mire carnali umane terrene Il nostro corpo e le nostre membra sono state prestate come strumenti di iniquità Ora che siamo figli di Dio dobbiamo avere un sacro rispetto del nostro corpo E non è una cosa che fa riferimento a un corpo glorificato e spirituale Sta riferendosi proprio a questo corpo fatto di carne, ossa e sangue Noi abbiamo ricevuto dal Signore questo sacro impegno di onorare il suo nome Perché questo è il Tempio Questo è il Tempio dello Spirito Santo E dice chi guasta il Tempio di Dio Dio guasterà lui A volte ci chiedono ma perché voi Non vi lasciate andare con i vizi Che ne so il fumo, l'alcol, la droga eccetera eccetera Non troviamo dei versetti specifici a tal proposito, vero? Non c'è un versetto dove viene affermato non fumare Per esempio Anche se un fratello che era un grande accanito fumatore Poi a un certo punto smise Aveva ancora la vecchia versione Diodati Ve la ricordate la versione Diodati? Che cos'è la versione? È un linguaggio antico, un italiano antico E leggendo i comandamenti Laddove c'è scritto non rubare C'era scritto non furare Furare significa non rubare Ma lui chissà un po' non ci vedeva bene Ha letto non fumare Fratello ho letto nei comandamenti Che il Signore vieta il fumo E a volte anche le sviste servono, no? O anche l'ignoranza potremmo dire Ci sono dei divieti che sono impliciti nella parola del Signore Ci sono delle cose scritte che non sono scritte Delle cose che Dio ha scritto nel nostro cuore Nella nostra nuova natura Nella nostra nuova indole Nelle nostre nuove priorità Nei nostri nuovi desideri Perciò fratello Se sei preda di un vizio Chiedi aiuto al Signore E fa che questi lacci siano spezzati Fratello o sorella Perché soltanto così potrai dare gloria a Dio Attraverso il tuo corpo Il corpo che è il Tempio dello Spirito Santo Dobbiamo presentare i nostri corpi Come un sacrificio vivente Santo Gradito a Dio E questo è il nostro culto spirituale Così dice l'Apostolo Paolo Scrivendo ai Romani al capitolo 12 E potete dare gloria a Dio Perché siamo arrivati alla conclusione Ma so che avete dato gloria a Dio tutto il tempo Sin dall'inizio Diamo gloria a Dio attraverso L'amore reciproco E l'unità L'unità della Chiesa L'unità dei credenti È fondamentale Una Chiesa divisa Non glorifica il Signore Una famiglia divisa Non glorifica il Signore Una divisione tra Chiese Non dà gloria a Dio Non onora il Signore I credenti disuniti Ed egoisti Non portano mai gloria a Dio Non potranno mai essere un vanto per il Signore L'Apostolo Paolo Scrivendo ai Romani al capitolo 15 I versetti da 5 a 7 Dice Vi conceda di avere tra di voi Un medesimo sentimento Secondo Cristo Gesù Un medesimo sentimento Vale a dire Una medesima mente Il sentimento che è stato in Cristo Gesù Affinché di un solo animo Di una stessa bocca Notate Medesimo sentimento Un solo animo Stessa bocca Glorifichiate il Dio e Padre del vostro Signore Gesù Cristo Perciò accoglietevi Gli uni Gli altri Come anche Cristo Vi ha accolti Per la gloria Di Dio Per la gloria Di Dio Il nemico in questi ultimi tempi Cerca di seminare discordia Ma non solo in questi ultimi tempi Forse in maniera particolare In maniera tremenda In questi ultimi tempi Semina discordia tra i credenti Nelle chiese E tra le chiese Vogliamo pregare il Signore Che ci dia Questo medesimo sentimento Che ci dia Quest'animo Unico Solo E che con la stessa bocca Ma quale bocca La mia o la tua No La bocca dello Spirito Santo Con la stessa bocca Possiamo glorificare Il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo Vogliamo accoglierci l'un l'altro Non vogliamo creare barriere Marginazioni Discriminazioni Differenze Siamo il popolo di Dio Siamo stati riscattati Siamo stati redenti Siamo stati creati Per la sua gloria E noi vogliamo dare gloria a Dio In maniera pratica Con tutte queste cose Che vi ho citate Ben sette Ma probabilmente ci sono altri motivi O altri modi Attraverso cui possiamo dare gloria a Dio Concludo con questa lettura Or Il Dio della pace Che in virtù del sangue Del patto eterno Attratto dai morti Il grande pastore delle pecore Il nostro Signore Gesù Vi renda perfetti in ogni bene Affinché facciate la sua volontà E operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui Per mezzo di Gesù Cristo A Lui Sia la gloria Nei secoli Dei secoli Amen Dio ci benedica Io tocco il cielo Con radio tutto l'Evangelo RTLE Solo musica cristiana Grazie a tutti Grazie a tutti